E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di questa nuova serie in compagnia di due matti che vogliono Come avete visto dalla intro perché si ragazzi stavo registrando e avete perso la vostra dignità Anch'io stavo registrando ma la metterò anch'io lo stesso momento che cazzo c'è la dignità qua su youtube Comunque ragazzi dove siamo? Si mangia? Si mangia? Quella era la ricetta? Dove siamo? Siamo vicino a una pozza di sborra... di acqua Ehi raptor visto che a te piace tanto vai dentro la sborra Va bene allora farò la intro da dentro qua Allora quindi metto il tuo attento Sborra io Sborra io Va bene dai Eh dai eh serio Ah comunque ragazzi come l'hanno annunciato questa è la nuova serie di cui vi parlavamo Il pacchetto trovate in descrizione Si parla sempre del pacchetto Technic C'è su Launcher Technic Launcher Però il pacchetto è il Please ignore this mod pack Si chiama così praticamente Ma non è un cazzo vero? Si chiama test pack please ignore Va bene piccoli errori tecnici Si chiama test pack please ignore Va bene si chiama in quel modo Comunque si cazzi E' un mod pack con 180 mod praticamente No sono pochi alla fine Si sono soltanto tipo in versione normal Normal della grafica 155 pagine di Nei Vabbè Lasciamo stare Quindi Iniziamo questa nuova serie in compagnia di questi pazzi E diciamo subito che Il primo episodio sarà caricato su tutti i canali Uguali Quindi passate anche da loro per seguire i prossimi Che saranno caricati uno a testa A partire da non si sa quale ordine Comunque Vedremo Tipo che ne so Il prossimo uscita su quello di Emel Poi il mio Poi i radio Poi si vedrà dopo Quindi possiamo iniziare E questo era un root Tipo che c'è Mi pare che ho visto Poi la link Ma io non mi dico perché Ma io ho di 8.000 semi Vabbè Raptor Sappiamo tutti La tua piantagione Di che cosa hai fatto Di tutto Cioè posso allevare tutto Qua la marivana mi fa un baffo Ah regà Poi durerà sicuramente più Della old craft Perché Tipo ci sono tipo 6 volte le mod Prima di finire Ah e soprattutto ragazzi Per chi chiedeva di Continuare la infinix Questo ne altro che Il continuo giornato Della infinix Esatto Io sono dentro Perché pago Regà Sono il Francesco Sole di Youtube Mi dici Lui si ci ha pagato 100 euro ad episodio Quindi speriamo Che duri Molti episodi Figa regà Cioè te l'episodio Mi dovete passare 7.000 iscritti Ogni 3 secondi Tipo vabbè Va bene Ok allora Io avere un po' di legna Andavo a scuola A scuola A scuola Andavo a scuola E adesso A zappa Per chi non l'avesse capito Ragazzi Questa serie andrà male Ma male Cioè Cosa te lo fa pensare Degenerer Eh 4 pozze di Oh rovo Raft Ti ricordi la Sky Factory Ah regà Prima che me lo scordo Creeper E in questa serie qui Non quitterà Nessuno Ah no vabbè Non abbiamo una casa Non c'è perico Non quitterà Nessuno Forse Eh massimo Boh spero Cioè Credo Vabbè dai C'è esplode un mega creeper gigante Il naga creeper A meno che All'improvviso Non c'ho In una persona Ma Questa tosse improvvisa Mamma mia Mamma mia Sto male Male Ah regà Ma io ho la brightness Tipo Cobblestone Che cazzo ho toccato io qui Ah regà Probabilmente Di tutto quello che avete visto Sulla old craft Non vedrete un cazzo Perché quelle mod lì A parte l'industria Che probabilmente Non ne toccheremo nessun'altra E poi qui ci sono altri mod Da vedere Tipo la mecanism Che è una signora mod C'è L'ars magica Che è qualcosa di stupendo Poi Vabbè C'è la morph Che per il momento È disabitata Perché fa la gara Merda In realtà no Io la morph Se l'ho E mi posso Sto fare un maiale Eh sì Io preferisco Oh c'è Dio C'è Dio Picchio Dimmi che sono diventato Dio Posso? No Mi di Spammerod Io so che volevi sembrare Io posso diventare Dio Sì No Tutti possono diventare Dio Facciamo blasfemia Dai per favore Oh no Raptor Blasfemo Devo censurare questo video Sì dopo blasfemo Raptor Disiscrivetevi Per favore Disiscrivetevi Dal canale di Raptor Oh un altro Dio Vieni qui Piccolo Dio Vabbè ma io Qua sarà Cioè Ho tanti di quei semi Che posso veramente Fanno piantaggio di marijuana Regà Il maiale mi ha dato una cosa Che si chiama Pig fat Ed è l'assi magica 2 Grasso di maiale Cazzo Oh il trucco minerale Che cazzo è sta roba Diamante Regà si fanno le candeli Regà ma che cazzo è diamante Scusa Che cazzo è No è il topazio Ah il trapazio Ti immagini Il trapazio Ti trapasso l'anima Con il mio pisello I need cobblestone Figa Basta che scavi Per terra I need cobblestone Nemmeno Ah aspetta Regà Giusto per rendere chiara una cosa In questo server Si possono fare queste cose Oddio Che sta facendo Che sta facendo No Non puoi No Non puoi Non puoi No Sono stato Chiccato dal server Adesso come farò Eh cazzo Si vede l'IP C'è nessuno Per favore Ah c'è la whitelist No io lo censuro Regà Perché tipo Da quando abbiamo detto Che c'è la whitelist Sul server della old draft La old draft È iniziato incredibilmente A laggare Madonna ma guarda Non ci ho fatto caso Sai Che coincidenze assurde Perché sto facendo I ponti Nemmeno fossi su Skywars Nemmeno fossi sulla Skyfactory Cosa? Viper BOOM Quit Quit 108 Quit Il numero Perfetto Che cazzo di Comunque raga Come state capendo Questo qui sarà proprio La serie più dimensione Che c'è su YouTube Si infatti avete visto ragazzi Che non ci sarà serie età Per niente In realtà La cerchiamo di mettere Poca 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 Ma giusto ogni tanto Quando c'è da fare qualche macchinario Si ma giusto così Perché il resto sarà tipo A vedere quale serie in cui Si dicono così tante puttanate Che gli iscritti video Dall'inizio del primo minuto Alla fine Dell'ultimo minuto Di video Ecco non sarà questa Chiudete la serie Regà Andate via Sarei chiunza Tutto finito Stacca 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 Buck 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 Vacation Vacation Incambi Vacation per master Perché ho fatto 4 graph in devil Ragazzi se per caso Ragazzi se per caso Un certo gabby Lo vedete Irrashin Nei video Non è perché Perché ha perso il rank Per caso Successe tranquilli No eh Noi non c'entriamo niente Il mondo è salvo Ragazzi Tutto a posto No il mondo è salvo ragazzi Abbiamo fatto questa cosa Siamo sconfitto il male Cazzo Abbiamo sconfitto il male Allora io ho parecchio porco Da Ma che cazzo Hai parecchio dio Oh Ho il seme di blackberry Chi è quello della Della Samsung Se vogliono me stasera Non durerà perché Si bandano il canale Direttamente Eh vabbè Cioè i contenuti di terze parti Facciamo una fin No 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 Censuro il nome Lo giuro Lo censuro regà Allora quindi facciamo un riassunto Tutto ciò che è successo In questo episodio Abbiamo circa nominato 18 youtuber Insultato altrettanti youtuber Fatto caricature Di altrettanti E parodie Alquanto strane Che se ci vedono Ci denunciano C'è già un ponte di terra E i live Emerald Dammi gli accessi Ehi ehi Dov'è il mio sito di altervista Strong Dammi la password No no 16 euro sopra Dammi la password No stasera dovevo censurarla Raptor Per favore Per forza Io non censuro Io uso Camtasia E non so tagliare i video Senza Senza Comercio Com'era il video E se non hai meno da usare Vegas E poi l'ho anche buttato fuori al netto A me ha insegnato Stephanie Usare Vegas Ah Vabbè Comunque ragazzi Come si è ben capito Avremo ben presto una denuncia Per tutto come ho detto Comunque Tornando a serie Si scherza Qua le persone Vanno a fare Di infami Vabbè ragazzi Basta fare i coglioni Abbiamo detto Questo episodio durava poco E così sarà Perché lo poniamo Fine adesso Prima che nascono Veramente qua Situazioni strane E niente ragazzi Io vi dico Che per questo episodio Può essere tutto Vi ricordo Di lasciare un bel pollice in su E passare sugli altri canali Perché dal Prossimo episodio Iniziamo a fare L'alternanza Degli episodi Su diversi canali Mincia l'alternanza Regà Italiano level La raptor Level Albania No mi si è spaccata la spada Porca spada Porca spada Regà capite che con il grasso di maiale Si fanno le candele Si Ecco Facciamo la candela di Gesù E accendiamo l'allumino a modi Non so che cosa Vabbè Comunque Inizio in Monte Calvare anche tu Ad infiodare Gesù Basta Va bene Va bene Da raptor è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ok ragazzi Questo video di questa serie Demente Finisce qui Spero che abbiate apprezzato L'inizio di questa serie Faccio quest'altro Per il semplice fatto Che voglio chiarire Che tutto quello Che abbiamo detto nel video Era solo per scherzare Visto che non ce l'avevamo Con nessuno Infatti alla fine Si è fatto per ridere e scherzare Ovviamente Sottolineo che non ce l'avevamo Con nessuno Perché conosciamo persone Che hanno a che fare Con le persone Che abbiamo nominato O che A cui abbiamo accennato Quindi tranquilli Non intendiamo a offendere nessuno Se qualcuno si è offeso Ci dispiace molto Ma non era fatto per cattiveria Ma solo per ridere E visto che sono cose All'ordine del giorno Che vediamo praticamente Tutti i giorni E niente Spero che vi avete apprezzato Come tutti gli altri Lasciate un like Iscrivetevi al canale Che trovate in descrizioni E bella All'ordine del giorno